Un cordiale saluto, un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati per questa edizione del TgGiorno, mercoledì 13 dicembre. Santa Lucia, il detto, recita il giorno più corto che ci sia. Ma noi iniziamo parlando, poi parleremo anche di Santa Lucia, iniziamo parlando di cultura, perché Lucca, questa non è una bella notizia, non è stata messa nell'otto delle 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura, parliamo del 2026, dunque fra tre anni. L'ha annunciato il sindaco Mario Pardini che si è assunto la responsabilità dell'insuccesso, ma ha aggiunto, crediamo nel progetto che abbiamo messo in piedi e lo presenteremo ugualmente alla città. Ma sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni, il primo cittadino di Lucca. Chiaramente non ci fa piacere, diciamo che non ce l'aspettavamo, però intanto ci tengo a precisare, chi ha vinto il titolo come Agrigento, faccio un esempio, ha vinto al terzo tentativo, Lucca era il primo. Io rivendico e credo la bontà del progetto perché abbiamo messo per la prima volta insieme come unità, una cosa che nella nostra provincia era abbastanza non scontata, ovvero mettere insieme comuni che vanno dalla Versilia al mare, quindi alla montagna, passando per la piana. Sulla bontà del progetto sono talmente convinto, me ne prendo la responsabilità di quello che è successo perché l'ho voluta fortemente io, l'ha voluta la mia amministrazione, ma diciamo in prima persona ne rispondo e ci tengo perché lo presenterò, lo presenteremo alla città pubblicamente, ora vediamo se in Consiglio Comunale è un'edizione pubblica, perché secondo noi comunque sia andata, quel progetto ha un senso, quel progetto serve alla città, serve territorio e comunque vado e lo porteremo avanti. Questo è il Sindaco Pardini, intanto la città si prepara il Capodanno in Piazza Santa Maria, vediamo i particolari. Sarà Sabrina Salerno l'ospite d'onore della festa di Capodanno che si terrà in Piazza Santa Maria a Lucca nella notte di San Silvestro. La partecipazione della cantante Showgirl, una delle icone italiane degli anni Ottanta, è stata annunciata a Palazzo Orsetti nell'ambito della presentazione dell'evento. La 55enne cantante Ligure ha anche inviato un videomessaggio di saluto. Il 31 di dicembre sarò a Lucca in Piazza Santa Maria con tutti quanti voi per passare veramente un Capodanno super mega fantastico insieme a tantissimi altri artisti, altri cantanti e per festeggiare ovviamente tutti quanti insieme. Oltre a Sabrina Salerno sul palco di Piazza Santa Maria si esibiranno il DJ Federico Avanzati e la Auto Reverse Band con uno show dance che partirà dal repertorio anni 70 fino agli anni 2000. In programma anche il DJ set del lucchese Luca Maffei. A presentare la serata sarà Emanuela Gennai. L'evento è promosso dal Comune con il sostegno di Luca Crea e Conf Commercio e la compartecipazione della Camera di Commercio e di Ennegan. Una serata che partirà dalle 10 della sera in Piazza Santa Maria fino alle 3 di notte. È un salto di livello anche rispetto all'anno scorso quando ricordo che avevamo comunque un cast altrettanto importante con Luisa Corna e un modo per fare festa tutti insieme ovviamente a ingresso gratuito e con la voglia di ballare e di sognare un buon 2024. Un po' a sorpresa è stato annunciato che sarà interrotta la tradizione del premio al lucchese dell'anno. Troppe persone meriterebbero il premio ha detto il sindaco Pardini. Vogliamo stare accanto a tutti i lucchesi. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del settore sanitario e dei contratti di lavoro di questo settore e di questi lavoratori. No al contratto integrativo per il personale sanitario proposto dall'azienda Urso Toscana Nord-Ovest. Sono sei punti che il sindacato Fialz boccia nel documento e tutti relativi alla distribuzione delle risorse economiche che secondo il sindacato andrebbero a favore di una ristretta cerchia di lavoratori, lasciando ancora insolute questioni come il welfare aziendale o i saldi di produttività. Poche risorse che vanno a bagnare solamente alcune professionalità e alcune persone, quindi riteniamo che le risorse messe a disposizione dalla direzione aziendale, quindi dalla Toscana Nord-Ovest, non vadano a premare il sacrificio dei lavoratori. Non c'è una parte di welfare come invece in altre aziende, limitrofi a noi hanno fatto e quindi diciamo delle agevolazioni per il personale che lavora all'interno della sanità. Ci sono dei premi che vengono date solamente a pochi, quindi premi delle eccellenze che bagnano pochissime persone con un impegno di risorsa economico importante. Ma la protesta del sindacato non si limita al solo contratto integrativo, restano ancora da risolvere infatti i problemi legati al personale con il blocco dell'assunzione di figure mediche e sanitarie a favore di quadri amministrativi, oltre al mancato anticipo a dicembre del pagamento dell'indenità di vacanza contrattuale. Temi per i quali la FIAZ regionale ha annunciato lo stato di agitazione in tutte le asle del territorio toscano passate le festività natalizie. Andiamo avanti e andiamo adesso per la prossima notizia sul nostro sito. Purtroppo è una notizia luttuosa, è morto Valerio Ceccarelli, presidente della Proloco di Bagni di Lucca. Lutto nella cittadina termale, qui lo vediamo anche in questa foto, proprio di pochi giorni fa, tra l'altro in un'intervista che aveva rilasciato alla nostra emittente, è venuto a mancare improvvisamente Valerio Ceccarelli, infaticabile presidente della Proloco di Bagni di Lucca. Aveva 73 anni, in questi anni si era sempre impegnato in modo alacre senza risparmiarsi e palesando un grandissimo amore, leggiamolo, per il suo paese. Ceccarelli ha fatto tutto quello che era possibile per dare vitalità e sviluppo al territorio. Naturalmente da parte di tutta la redazione di Noi TV le più sentite condoglianze alla famiglia, ma anche alla comunità di Bagni di Lucca. Andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso parliamo della Santa Lucia perché è stata celebrata anche quest'anno, proprio questa mattina, all'ospedale San Luca. Nella ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista invocata contro tutte le malattie degli occhi, all'ospedale San Luca di Lucca si sono svolte alcune importanti iniziative. La giornata si è aperta con la tradizionale Santa Messa per gli ammalati, preseduta dall'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti. Tra i momenti più significativi, nella hall dell'ospedale, si è tenuto lo straordinario concerto della banda musicale della brigata paracadutisti Folgore, che oltre a svolgere le normali attività addestrative, partecipano alle varie cerimonie militari e istituzionali su tutto il territorio nazionale. La banda, già ospite del San Luca nel 2017, ha offerto una ricca e interessante platea di brani natalizi. La ricorrenza è stata l'occasione per stilare un bilancio dell'attività svolta dalla struttura diocolistica diretta dal dottor Fausto Trivella, che evidenzia anche il significato di questo 13 dicembre. Come tutti gli anni ormai da 14 anni, è una festa che ti permette di riunire la parte clericale, i cristiani, la parte politica, i medici, gli infermieri, i pazienti, tutti qui, tutti in festa fondamentalmente. E quindi la ripetiamo tutti gli anni, speriamo che il prossimo anno venga rifatta nella stessa maniera, è troppo bella così. Noi invece dobbiamo fare oltre a quello, nel senso di stare vicino a chi non vede, a chi ha dei problemi di vista, dobbiamo cercare di lavorare sempre di più e sempre meglio per dare vista a chi ha dei problemi. Bene, la nostra unità operativa è un'unità operativa che viaggia a livelli nazionali e anche a livelli internazionali, quindi Luca è conosciuta perché è una grandissima unità operativa. Una delle tradizioni per antonomasia del nostro Natale, oltre all'albero, è anche il presepio a Pescaglia inaugurata la Valle dei Presepi. Taglio del nastro a Pescaglia per l'apertura ufficiale della settima edizione della Valle dei Presepi, iniziativa organizzata dall'Unione Comune Media Valle del Serchio e che coinvolge le aree di riferimento ai cinque enti locali che fanno parte dell'Unione. L'apertura della rassegna si è svolta a Piazzanello nei pressi di Pescaglia e non è un caso in quanto in questa area, sia nella chiesa che in vari luoghi intorno, sono presenti molti presepi che fanno parte di un percorso. Pescaglia ha veramente una tradizione importante di presepi, qui proprio nel capoluogo a Piazzanello ci sono i tradizionali presepi nelle marginette, a Convalle i presepi ambientati nel bosco e in tutta Pescaglia è possibile trovare scorci veramente interessanti. A salutare i presenti una bella festa con mercatini e prodotti tipici. Poi, dopo il saluto della banda musicale di Valdottavo, gli interventi aperti da Umberto Palagi che ha sottolineato quanto questo territorio sia legato ai presepi. Poi il sindaco di Pescaglia che ha fatto gli onori di casa ed ha salutato i colleghi e rappresentanti degli altri comuni. Tra i tanti presepi vi segnaliamo quello allestito all'interno della chiesa di Pescaglia caratterizzato dalla presenza della statua di San Francesco con uno strano oggetto in mano. E' rappresentato con in mano una Bibbia miniata e un antico strumento che serviva a tagliare le ostie, le particole. Per quale ragione? Perché la parola e l'eucaristia sono strettamente legate al mistero che il presepe rappresenta. Naturalmente sono presenti tanti presepi anche negli altri comuni della Mediavalle come Barga, Coreglia, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Tutti i territori fortemente legati a questa tradizione che quest'anno peraltro festeggia 800 anni dal primo presepio di Greggio. In Versilia si va invece in proiezione 2024 verso l'accorpamento di diversi istituti scolastici. E' ormai deciso. L'Istituto Superiore Don Lazzari Stagi di Pietrasanta dal prossimo anno perderà l'autonomia amministrativa e sarà accorpato quasi certamente con l'ISI Piaggia di Viereggio. E' quanto emerso dall'incontro consultivo di martedì mattina convocato dalla provincia di Lucca. La Scuola Superiore di Pietrasanta, l'unica in città già frutto di un accorpamento nel 2011, è l'unica insieme al comprensivo di Stazzema fra i 15 istituti oggetto di dimensionamento decisi dalla Regione Toscana per il prossimo anno, per effetto del decreto ministeriale del Governo dello scorso giugno. Propriamente sono partiti i lavori per il completo rifacimento della sede del liceo artistico, la scuola dunque andrà sotto la dirigenza del Piaggia. Le conseguenze sono soprattutto amministrative. I sindacati temono infatti taglio al personale nelle segreterie, oltre che nella dirigenza. Il sindaco Alberto Giovannetti, che ha chiesto una segreteria in formato ridotto, lasciando quindi un riferimento fisico nel plesso di Pietrasanta, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Io non mi preoccuperei più di tanto, anzi credo che sia un arricchimento anche per il nostro istituto alla fine, che possa alla fine di questa fase sperimentale, che dovrebbe essere fino a 2027, poi anche con la realizzazione proprio della struttura della scuola nuova, possa essere anche un momento in cui il dolazzeri stagi cresce, quindi possa tornare in una totale autonomia. Questo è il mio sogno e mi piacerebbe che si realizzasse. Per quanto riguarda gli insegnanti, il personale, credo che non cambia niente. Del futuro della scuola e degli effetti degli accorpamenti si parlerà nella puntata di mercoledì sera di Percontro, in onda alle 21.30 su Noi TV. Bene, dopo aver ricordato anche l'appuntamento di questa sera con Percontro, io mi fermo qui per quanto riguarda la prima parte del Tg Giorno, rimanete con noi perché subito dopo avremo un'ampia pagina sportiva. In primo piano la partita della Lucchese, in campo oggi alle 18.30 ad Avellino per i quarti di finale di Coppa Italia.